Oscar, Antonio e, scusate, siccome Roberto Palla è anche una persona molto conosciuta qui, no? Sì. Avete visto quel centro dietro le sue spalle? Potete colpire. Ecco, è messo lì apposta. Ok, e poi abbiamo anche una ragazza di nome Barbara Potrick. Ok, lo rifacciamo. Andiamo. Grande. Perfetto, perfetto. Ecco le mani, dattene una mano. Oh, quello è il vero senso di una parola. Oh, quello è il vero senso di una parola. Oh, quello è il vero senso di una parola. Sing it! We will, we will rock you. Sing it! Oh, quello è il vero senso di una parola. Oh, quello è il vero senso di una parola. Oh, quello è il vero senso di una parola. We will, we will rock you. un applauso qua sotto facciamo sentire la sala soltanto la sala we were, we were, rock you we were, we were, rock you ci vuole tanto we were, we were, rock you everybody we were, we were, rock you grazie ragazzi un grande applauso per Alberto Toglio e Barbara e Roberto alla batteria grazie a tutti